E' tutto pronto per la quinta edizione di Gemelli per Sport, il torneo internazionale Under 16 di Calcio 7 che, all'Oratorio di Fiumicello in Via Manara a Brescia, vedrà affrontarsi in tre giorni le squadre di calcio delle città gemellate con Brescia. Betlemme per la Palestina, Darmstadt per la Germania, Logronio per la Spagna e per la prima volta Troyes per la Francia. Oltre a loro ci saranno anche le squadre di Casazza e Villaggio Prealpino che a giugno hanno partecipato al Paglio del Calcio Bresciano, arrivando seconda e terza. La novità più importante è la presenza per la prima volta della squadra di Troyes, la squadra francese che nelle precedenti quattro edizioni non era stata qui in città, qui a Gemelli per Sport. Insieme a loro ovviamente come sempre ci sarà Darmstadt, Germania, Logronio, Spagna e Betlemme-Palestina. I portabandiera bresciani saranno le squadre di Casazza e del Villaggio Prealpino che hanno benissimo figurato al recente torneo dei quartieri classificandosi al secondo e al terzo posto. La vittoria era andata a Bettole Buffalora, ha fatto un gesto di grande fair play avendo già partecipato alla quarta edizione di Gemelli per Sport lasciando il testimone ai secondi e ai terzi classificati. Le serate del torneo quando si parte? Allora, fischio di inizio giovedì 30 agosto con le partite d'andata della fase a Gironi, la serata successiva le gare di ritorno e poi il sabato le finali, quinto, sesto, terzo, quarto e primo, secondo posto. Ogni sera a partire dalle 19 all'oratore di Fiumicello. Un programma ricco che va oltre le partite in programma. L'inaugurazione ufficiale avverrà mercoledì 29 agosto durante la cena di quartiera ai giardini masserdotti di Via Contini. Qui le squadre verranno presentate. Giovedì mattina le delegazioni saranno ricevute a Palazzologe dal sindaco e dal vicesindaco per poi visitare le bellezze che offre la città di Brescia. I ragazzi verranno quindi coinvolti in iniziative turistiche e ludiche con la visita al castello e una giornata in un parco acquatico della provincia. Per la prima volta ci sarà anche l'esibizione della banda sinfonica della Rihoha da Logronio che si esibirà venerdì 31 alle 20.45 sotto il porticato della loggia. È una bellissima esperienza. Ormai è la quinta edizione. Centinaia di ragazzi tedeschi, spagnoli, palestinesi e italiani, bresciani, si sono fatti questa occasione di comunità. Sono cresciute amicizie, relazioni, so che ci sono anche scambi, viaggiano, si vanno a trovare. È un torneo under 16, quindi prevalentemente sui ragazzi e gli adolescenti ed è così che si collegano le relazioni, le relazioni tra le popolazioni. Noi siamo abituati a parlare dell'Europa pensando ai governi, pensando alle istituzioni europee, ma dobbiamo pensare che l'Europa è soprattutto a rapporto tra le popolazioni. E questa è una bellissima occasione. Usando i gemellaggi con Darmstadt, tedesca, con Logronio, spagnola, con Trua, francese, si creano questi rapporti straordinari. Betlemme è invece una città gemellata, naturalmente gemellata con Brescia, perché è l'unica università di Palestina, è un'università voluta da Paolo VI, brescianissimo. E questi legami si stanno sempre più intensificando e trovo molto bello che noi seminiamo, 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 perché quelle persone che fanno questa esperienza, a volte se ne vanno anche con qualche lacrima, perché si sono trovati tutti bene a Brescia, è un'esperienza che rimane nella vita dei ragazzi e sicuramente noi abbiamo anche un po' l'ambizione di immaginare che l'abbiano anche un pochino cambiata. Insomma, non solo calcio, Gemelli per Sport si conferma una festa dell'amicizia fra i popoli, occasione di incontro, di scambio culturale, di socialità e condivisione.